Albatros, Salavedro L'ultimo sabbia, come puoi vedere L'ultimo pannello E il nuovo patto Via Giardani, Cerci Si va subito, subito Ok Vediamo il cab Ok Alla BBM 3141 3141 With EGV Buttons For personal channel 25kg Or channel 20 Replace in 2000 Or in 1999 Oh Oh le cow John Si è uno sabbia, ripoff E' veloce E' veloce E' veloce E' veloce E' veloce C'è un' E' veloce E' veloce E' veloce E' veloce Sed' la seconda oh what a find altre porte oh ha due porte oh incredibile e ora andiamo al 9th floor 2140 240 yeah that was another door nice climate, nice sound of the climate and now preparing for the immediate ground floor push off the button that's right and that's it all the particular thing so let's sit so let's sit